Ortona dovrà attendere ancora due settimane per conoscere quale sarà il sindaco della città e ballottaggio tra il primo cittadino uscente Leo Castiglione e Ilario Cocciola. Nessuno dei candidati a sindaco ha raggiunto il 50% più uno dei consensi e dunque come previsto per i comuni con più di 15.000 abitanti si andrà al ballottaggio il prossimo 26 giugno. Leo Castiglione con il 42.25% dei consensi, se la vedrà con Ilario Cocciola che ha raccolto il 35.13% dei voti, terzo posto per Angelo Di Nardo 20.39%, Francesco Terra con il 2.24%. Ora inizia la fase delle possibili alleanze, la campagna elettorale prosegue per i due contendenti che sono a caccia di voti e non di certo vogliono demordere, hanno detto al microfono di Gioia Salvatore nel corso della lunga maratona elettorale di ieri Rete 8 il centro. Ilario Cocciola. Noi continueremo sempre nello spiegare il nostro programma, la nostra visione su Ortona, una città che si deve ulteriormente aprire a nuovi spazi, una città che deve risorgere, deve ritrovare il suo orgoglio, essere presente negli enti sovraordinati, oggi è totalmente assente. Insomma un progetto decisamente diverso da quello dell'attuale amministrazione. E' soddisfatto di questo risultato? Beh sì molto perché siamo partiti da prima con il PD che ha fatto la sua dichiarazione di sostegno all'attuale sindaco, quindi abbiamo costruito un'area moderata riformista che si è aperta anche all'area un po' più riformista se vogliamo, quindi con sette liste abbiamo cercato di rappresentare uno spaccato ampio della città. E lei Leo Castiglione, sindaco uscente che si ripropone? La mia sensazione non può che essere positiva perché abbiamo raddoppiato il nostro consenso, il mio amico Ilario ha presentato una squadra di sette liste con molta, poco omogenea, però insomma controbattere ai cento e passa candidati non è stato semplice, ma il cittadino ha valutato il lavoro di questa amministrazione in questi cinque anni a cui chiederemo di dare continuità il 26 giugno. Cosa vi aspettate insomma il ballottaggio, il rapporto con Angelo Di Nardo? No, il ballottaggio è obiettivamente una partita nuova per tutti, le discussioni sulle possibili alleanze che appartengono a noi ma penso anche all'attuale sindaco sono discussioni che secondo me hanno difficoltà di essere in qualche modo digerite dall'elettore, l'elettore vuole sapere qual è il programma di ognuno e poi valutare sul programma. Anche per la stessa domanda cosa si aspetta ora con il ballottaggio? Io dico che l'elettore ha già dato un suo giudizio, quindi ripeto due squadre, una di sette liste, una di cinque liste, il risultato è questo e quindi bisogna prendere atto di questo risultato. Io continuerò a parlare ai cittadini confermando che il nostro è un cantiere aperto dove chi ama Ortona può lavorare senza guardare le ideologie e senza casacche.